Noi abbiamo sempre detto che la sicurezza viene prima di qualunque altra cosa, il diritto per chi vola e per chi si muove è il diritto principale che vogliamo tutelare, questo con l'introduzione di questi strumenti, body scanner decisa come avete sentito per gli aeroporti di Fiumicino e Marpenso e di Venezia almeno a partire da questi. Grazie a tutti. A livello d'allerta è sempre massimo, nel senso che il nostro personale e il personale degli aeroporti di Roma viene comunque sempre sollecitato a prestare massima attenzione perché come saprete tutti quanti i macchinari di cui disponiamo, altamente sofisticati tecnologicamente all'avanguardia però hanno bisogno sempre di essere diciamo guidati dall'uomo. Alla prossima è un'ottima, un'ottima, ma non è un'ottima, ma non è un'ottima. A livello d'allora è un'ottima, non è un'ottima, ma non è un'ottima, ma non è un'ottima. Grazie.